L'idea è quella di mettere su una cooperativa. Che è una cooperativa? Con un'idea geniale. Cosa può essere? Una vostra pratica è perfetta. Quegli hanno fregato un paese intero e tu te la vieni a prendere con mio marito. E fu così che... Ha fatto costruire un cavo per nasconderci soldi che ci ha fregato. Noi ci prenderemo solamente quello che è nostro. In prima visione, una commedia nell'Argentina sull'orlo della crisi economica e sociale. Noi non siamo ladri. Devo pensare. E quindi che si fa? Criminali come noi. Questa sera alle 21.20 su Rai 3.